un saluto a tutta la community del jiu jitsu io sono marcos berla e sono qua per presentarvi la nuova iniziativa partiremo da ancona io simona ciaccia e gabe del podcast clamoroso e faremo un tour di tutte le palestre che avranno il piacere di ricevere la nostra visita il progetto finirà su tutti i nostri canali social e sul nostro canale youtube come fare per ricevere la nostra visita basterà contattarci e richiedere tutte le informazioni ovviamente non riusciremo a visitare tutte le paese d'italia perché in questo primo evento avremo a disposizione soli tre giorni il progetto sarà sostenuto in primis da kia motor ancona e che ringraziamo ma soprattutto sarà sostenuto da tutti voi più accademici contatteranno più riusciremo a viaggiare se l'iniziativa riscuoterà il successo che ci auguriamo continueremo il viaggio per organizzare la seconda stagione dell'evento contattateci